Il ministro della Lega Nord Matteo Salvini come ad ogni inizio di campagna elettorale torna in Molise per promettere interventi e opere faraoniche. Lo ha fatto l'ultima volta ed era proprio dove sono qui ora in occasione delle regionali parlando di immediato finanziamento e riapertura del viadotto Sentechio alle spalle. Siamo nel 2024 e come potete vedere gli interventi non sono iniziati. Noi ovviamente porteremo l'attenzione su questo caso con una interrogazione in consiglio regionale perché vogliamo ben comprendere dove sono stanziate quelle somme quei quattrini di cui lui ha parlato e che ha promesso a Abruzzo e Molise. Oggi verrà a parlare probabilmente di viadotto Molise 1 sulla Bifernina. A tal proposito voglio ricordare al ministro che ci sono le maestranze e gli operai che da circa tre mesi non percepiscono lo stipendio. Verrà probabilmente a parlare di collegamento ferroviario tra Campobasso e Roma ma di tutta questa attività promozionale sui territori e per i suoi candidati alle elezioni europee. Cosa rimane in effetti? Rimane l'autonomia differenziata perché mentre vai sui territori a dire che aiuta il sud Italia in Parlamento promuove una legge che invece spacca in due il paese. L'autonomia differenziata se dovesse vedere la luce farebbe fare 100 passi indietro ai servizi al sud. Pensiamo alla viabilità, all'istruzione, alla formazione, cosa ancora più grave alla sanità. Quindi oggi in Molise torna il nemico politico numero uno del sud Italia che è proprio il ministro Matteo Salvini.